Cari amici di Di Pomeriggio, bentornati al nostro weekly settimanale, il calendario degli appuntamenti, degli spettacoli dal vivo nei nostri teatri in Abruzzo. Come ormai già da qualche settimana continuo a dire che le stagioni sono terminate e in realtà proprio nel weekly di questa sera vedremo come gli ultimissimi spettacoli di alcune stagioni, alcune rassegne e poi ci sono concerti e festival. Ancora non è partita, diciamo così, la programmazione estiva, quella che vede fiorire concerti in ogni piazza, in ogni luogo, radunando le folle per cantanti di ogni genere musicale e così per ogni target di spettatore e quindi il nostro weekly di questa settimana sarà un pochino più corto, alcune schede ma sempre molto interessanti. Allora andiamo subito alla prima scheda, riguarda lo spazio rimediato dell'Aquila che ci propone in questo weekend proprio due spettacoli. Andiamoli a vedere. Il primo è Verità Comode, benvenuto negli Anta con e di Daniele Fabri. Pensare troppo rende infelici e quindi Daniele Fabri ci racconta alcune cose che non sapeva prima dei 40 anni, per esempio che il cioccolato fa ingrassare ma fa anche bene i denti, che ascoltare la musica ad altissimo volume può anche rilassare e anche che i gatti allontanano la depressione e conciliano il sonno. Insomma una serie di cose che si imparano con l'esperienza, con l'età. Ebbene Daniele Fabri parla di tutto ciò perché ha compiuto 40 anni da poco, classe 82, lui è uno stand-up comedian di spessore perché insomma è tra i più conosciuti appunto stand-up comedian e quindi è proprio uno dei veterani della stand-up comedy italiana. Sarà, lo ripetiamo, lo spazio rimediato sabato 18 maggio alle ore 21 quindi all'Aquila. Sempre allo spazio rimediato questa volta però domenica 19 maggio alle ore 17 ecco che la nostra scheda ci propone la mandragola si tratta dell'ultimo appuntamento della stagione tutto il superfluo necessario che diciamo ha visto la ha visto gli spettacoli susseguirsi sul palco dello spazio rimediato. Ecco la mandragola eh dal proprio dal dal il testo di Nicolò Machiavelli la regia è di Maria Giovanna Rosati e Hansen e in scena Samuele Befani, Tommaso Casadei, Eugenio Eminente, Stefano Gagliotto, Achira Chicucci, Fabio Lazzaroni, Maria Rita, Sgrigna. Quindi ricordiamo sarà in scena all'Aquila lo spazio rimediato domenica 19 maggio alle ore 17 e 30. Andiamo avanti la prossima scheda parla di teatro ragazzi andiamo a Teramo e allora per la rassegna di teatro ragazzi piccoli approdi al teatro eh al parco della scienza di Teramo sabato 18 maggio alle ore 17 e 30 in scena alla bella addormentata del Florian Meta Teatro questo per la gioia dei più piccoli eh che eh insomma hanno la possibilità di mh continuare a eh godere del teatro ragazzi anzi in questo caso proprio del teatro infantile così eh eh denominata questa rassegna curata da CS Abruzzo circuito spettacolo ripetiamo sabato 18 maggio il Florian Meta Teatro porta in scena la bella addormentata alle 17 e 30 al parco della scienza a Teramo. 17, 18 e 19 maggio eh sono tre giornate all'insegna della eh musica eh indipendente alternativa e rock a Roseto degli Abruzzi. Sunny People Fest ehm ospiterà artisti proprio da tutta l'Italia con un'attenzione particolare ai eh gli esponenti più conosciuti dello scenario eh abruzzese. Poi oltre alla musica andiamo a vedere proprio chi sarà il chi saranno i protagonisti il 17 maggio quindi eh questa sera Godano, Parole e Musica, Marlene Consi, Muri, eh Brodi e il 18 maggio No Braino, Duo Bucolico, Falegna Meriamarri, Disco Sentimento, il 19 maggio Borghetta Style o Stile, eh Mobili Trignani, Man, ehm aspetta, il 19 maggio Borghetta Stile, Mobili Trignani, Man, Stuart e DJ Martin. Eh sono presenti oltre al panorama musicale che abbiamo appunto visto anche ehm ehm diverse attività collaterali, laboratori di pittura e musicali, la forgiatura al Tornio, eh spettacoli di intrattenimento, street art, insomma ce n'è per tutti i gusti, a Roseto degli Abruzzi, il Sunny People Fest il 17, 18, 19 maggio. Ecco la prossima scheda, ci porta a Pescara al piccolo teatro Orazio Costa, domenica 19 maggio alle ore 18 e 30 in scena è la paura che non ti fa vedere bene. Vita, avventure e morte di Don Quisciotte di e con Andrea Iarlori. Ecco che ehm la 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 diciamo il personaggio di Don Quisciotte ormai divenuto proprio ehm un'icona, un'icona della ehm così del della lotta contro la lotta irrazionale contro le ingiustizie ehm e un'incoscienza ehm proprio fanciullesca e il Don Quisciottismo diviene un proprio un atteggiamento, un modo di essere nei confronti della realtà e parla eh il capolavoro di servante parla proprio al pubblico di tutte le età. Ecco che Andrea Iarlori porta in scena questo capolavoro sfidando proprio alla maniera del protagonista convenzioni e schemi teatrali, esprimendo quindi un significato eh che va al di là del diciamo della narrazione classica e e parte proprio da un assunto cioè che è la paura quel il motore che anima le azioni di ogni personaggio eh e proprio così appunto che si chiama lo spettacolo e la paura che non ti fa vedere bene vita, avventura e morte di Don Quisciotte di con Andrea Iarlori eh dal romanzo chiaramente di Miguel De Cervantes di e con Andrea Iarlori e lo vedremo a Pescara al piccolo teatro Orazio Costa domenica diciannove maggio alle ore diciotto e trenta. Andiamo adesso alla prossima scheda che poi è l'ultima di questo breve sintetico weekly di questa settimana eh si tratta di un concerto, un concerto che si terrà venerdì prossimo ventiquattro maggio alle ore ventuno nella chiesa di Santa Vittoria Vergine e Martine a Castilenti, è proprio un concerto organizzato in sinergia con l'associazione Anima Viventi e il patrocinio, il comune di Castilenti. In concerto abbiamo Artyom Shyskov, eh violinista talentuoso bielorusso e lui ehm sensibilissimo interprete della musica di Bach ehm è nato a MISC ha vinto numerosi premi internazionali tra cui il titolo Regina Elisabetta nel 2012 dal quale è partita la sua intensa carriera ehm da violinista e primo violino del Lipkin Quartet ha suonato nell'orchestra nazionale del Belgio con la filarmonica nazionale della Russia con l'orchestra sinfonica accademica accademica della eh filarmonica di Kharkiv eh l'orchestra filarmonica di San Francoforte nonché l'orchestra da camera di Stato Moscovia beh eh insomma eh è un talentuoso violinista eh suona un violino Giovanni Battista Gabrielli del mille settecentosessanta suonera Bach Biber Isai e il concerto eh rientra proprio in un progetto internazionale che ha come obiettivo la diffusione della cultura della cultura musicale bielorussa al fine di sensibilizzare l'importanza dell'unione dei popoli europei che tendono alla pace è proprio la musica quella che unisce i popoli al di là eh dei confini nazionali in scena dunque venerdì 24 maggio alle ore 21 eh nella chiesa di Santa Vittoria Vergine Martina a Castilenti Artyom Shishkov eh in senza frontiere questo eh concerto eh interessantissimo del violinista bielorusso con questa scheda cari amici di di pomeriggio e del weekly eh termina il nostro così i nostri termino i nostri suggerimenti per eh questo weekend e per la settimana eh ci rivediamo sicuramente venerdì prossimo nel frattempo eh mi raccomando non restate sul divano e andate a godervi uno spettacolo dal vivo grazie a tutti